amici amiche secondo video di oggi quindi video extra perché solitamente ne faccio uno a settimana oppure uno al 1 ogni 3 4 giorni quindi quindi video extra perché uno già caricato un po di ore fa allora sono qui perché come vedete sto riprendendo per la centesima volta il display di di da zone questo perché perché avete notato che dal 29 di aprile il coca corso per match non è più andato in onda e come ricorderete il 29 sempre 29 di aprile avevo detto che sarebbero ritornati in onda ma non si sapeva quando ma alla fine non sono mai tornati in onda e ho verificato io proprio ve lo posso assicurare e su facebook non sono neanche a passi post e storie eccetera quindi praticamente non sono più non sono più tornati tornati in onda però io pignolo come sono ho sempre controllato la programmazione di da zone questa è quella di oggi adesso vediamo quella di domani e come vedete il coca cola supermercce nemmeno l'ombra proprio sono sono nella programmazione del delle 20 di domani e proviamo dato che ci sono provo anche lunedì lunedì proprio non c'è per adesso non hanno aggiornato neanche la programmazione ma lunedì il coca corso per match non è mai andato in onda quindi il perché non lo so ma sicuramente sarà per prepararsi al al jalapasso infatti non sono neanche più andati da faccio se non una volta o due dopo quel 29 di aprile e questo volevo fare questo video semplicemente per in caso qualcuno oltre a me si chiedesse il motivo di questa assenza di questo di questo forma perché praticamente finito senza salutare i suoi i suoi telespettatori niente volevo dire non volevo dire nient'altro e quindi domani sera andrà in onda qualcosa per me no scusate il jalapasso su tv8 andrà in onda e niente e buon weekend buone buon fine settimana a tutti